Orsato, Orsato, quel rigore lì, se non viene chiamato dal VAR, non lo dà nemmeno sotto tortura. Ma non dite così, su, avete la memoria corta, ve la rinfresco immediatamente, ve la faccio vedere immediatamente, guardate il derby di Roma, quel derby di Roma, ve la faccio vedere, vi faccio vedere le immagini, il rigore dato alla Lazio per il calcetto che ha dato e che Orsato non ha fischiato sul terreno di gioco, richiamato al VAR, concede questo calcio di rigore, voi fate della dietologia e basta, perché non vi ricordate nessun tipo di immagini. Quando fai così mi piace Graziano, mi piace perché mi dite Orsato non lo dà mai questo rigore, questo cos'è? Ascolta Graziano, è un calcetto, non mi piace questa cosa. Graziano, devi chiedermi scusa, fate della cattiva informazione, stai facendo una cattiva informazione, questa è la voglia di compitare, e questo ho detto un'altra cosa, un attimo, Graziano, è un piacere, un attimo, ho detto un'altra cosa, non ho sentito niente, ho detto un'altra cosa, ho detto che senza il VAR non avrebbe mai dato il rigore. quello che stavi dicendo, perché non si è sentito niente, ripeti, ti facciamo parlare, non ti agitare, e ci spieghiamo tranquillamente. Graziano Cesari mi deve chiedere scusa. Perché? Perché sì. No, andiamo avanti però, poi dopo chiariamo. Perché io ho detto, Orsato, senza l'intervento del VAR, quel rigore lì, compreso quello di Roma, non lo avrebbe dato nemmeno sotto fortuna. Questo l'hai aggiunto dopo quello di Roma, quando ti ho fatto vedere le immagini. No. Questo perché hai la memoria corta. L'ho detto prima. Questo l'hai aggiunto dopo, perché ti ho fatto vedere queste immagini che tu non ricordavi. E allora mi dispiace dirlo, Orsato arbitra col regolamento in tasca, come fanno tutti gli arbitri che devono arbitrare.